Ciao a tutti, oggi un nuovo video riflessione. Vi sono mancati? A me sì, mi piace tanto fare i cosiddetti video riflessione in cui vi faccio svisionare e andare a letto con gli occhi aperti. Per l'occasione un video sempre in lo-fi, quindi non è la rubrica in HD, ma con postazione diversa. Perché? Perché l'argomento in questione, diciamo, che confonde un po' le acque e così dovrebbe fare, secondo me, la postazione. Quindi ho scelto questa, pur rimanendo nei canoni, della bassa qualità visiva, perché è quella la cifra stilistica che cerchiamo, un ambiente intimo, un ambiente non costruito per poterci confrontare. E quindi discutiamo assieme dell'argomento di oggi, un argomento che arrivo un po' tardi, ma semplicemente per il fatto che non avevo nulla di interessante da dire, fino a che non ho detto caspita, però, come ogni fenomeno di comunicazione, è interessante in realtà rifletterci su. E allora discutiamone, anche per il fatto che molti di voi mi hanno chiesto che cosa ne penso. Un argomento appunto di trend su cui tantissimi youtuber hanno fatto video, reaction, molto spesso ripetendo le stesse cose, come accade sempre, ma in linea generale, diciamo che ne stanno parlando tutti, quasi come se si dovesse parlare di quello. Quindi un bello scossone mediatico deriva dal personaggio che stiamo per trattare, e secondo me, quando ci sono scossoni mediatici, che lo si voglia o meno, la comunicazione sta funzionando. E sto parlando di Yang Signorino, e probabilmente lo conoscerete tutti, quello che fa... ... ... ... ... ... ... ... spuntare questi video in cui si diceva reaction young signorino ma comunque a livelli proprio esplosivi ho dovuto vedere anch'io perché la curiosità è proprio una mia indole espressiva in un certo senso quindi mi sono appropriato la visione e sono rimasto effettivamente scioccato cosa che accade di rado perché io sono abbastanza pronto e abbastanza preparato alle stranezze dell'umanità diciamo che non mi aspettavo nulla del genere non mi aspettavo nulla del genere perché mi aspettavo qualcosa di vagamente più mainstream qualcosa di brutto di trash ma che avesse una coerenza young signorino invece è orgoglioso della sua non coerenza e questo lo trovo in un certo senso geniale tra virgolette io trovo che la forza dei suoi video sia nella incapacità del dell'ascolto dello spettatore di capire quanto sia effettivamente trash quanto no perché è una bruttezza che si fa guardare all'infinito e diventa veramente una dolce droga in un certo senso io più volte sono tornato su quel video con un intento ironico ma poi ci arriviamo perché crea diciamo un dubbio una discussione dentro di sé guardare un video ascoltare una canzone di young signorino perché la confezione diciamo è comunque di alto livello se ci pensate i video sono una cosa pazzesca ragazzi lo stile lo stile secondo me young signorino come ha detto tra l'altro barengo uno youtuber che si occupa di moda streetwear young signorino effettivamente uno dei rapper meglio vestiti e la cosa che mi piaciuta è anche che mentre tutti i trapper mentre tutti i musicisti i rapper della trap canonici si vestono in modo eccentrico un po sotto lo stile ma gucci per dire è diventato un po anche a noia secondo me young signorino fa uno step oltre diventa grottesco e dark più sullo sul ricohen style io adoro il suo modo di giocare con la moda con il personaggio io trovo che lo stylist la stylist mi sembra che sia una donna che c'è dietro young signorino sia pazzesca cioè c'è un lavoro di di character design meraviglioso secondo me oltre alle basi io trovo le basi musicali estremamente interessanti che mi rimandano più che alla trap in sé ma in realtà sono poco poco ferrato sul genere quindi qua mi aspetto chi invece l'ascolta e la conosce bene mi rimanda a certe cose di elettronica abbastanza schizofreniche come arca per dire musicisti del genere non proprio a quel livello ma mi rimandano a quello ad esempio dolce droga questa base stranissima che io lo trovo affascinante sotto certi aspetti quindi c'è una confezione ben delineata in linea con un'estetica grottesca comunque vincente secondo me e dall'altra parte l'assurdità della performance in sé quindi la si trova quasi come un'estremizzazione effettivamente del mainstream di oggi quindi è difficile capire quanto sia intenzionale quanto no secondo me è quella la vittoria di young signorino a livello di comunicazione mettere in discussione il pubblico in un certo senso non si sa che livello sia a livello cosciente incosciente non è chiaro ma il fatto che lo faccia secondo me deve far pensare siamo veramente di fronte a un cantante trap o siamo di fronte a un performer a una performance è interessante chiederselo senza andare necessariamente a urlare è trash è brutto perché qua si sta parlando di qualcosa che parla in modo diverso se vogliamo a questo proposito vi consiglio la lettura di un articolo molto interessante del vision ve lo linko nell'info box che fa riferimento proprio al nostro modo di fruire dei contenuti che sono diventati un po' il cosiddetto che è proprio anche mio ad esempio con i libri trash la necessità di fruire i contenuti con ironia cioè amare le cose brutte per ironia che è una cosa fortemente contemporanea e young signorino in un certo senso estremizza tutto questo prende ciò che è mainstream oggi di eccentrico che è la trap la trap è la nuova musica pop ragazzi il pop è in crisi perché è la trap la musica del momento che piace ai giovani che comunica ai giovani e che molto spesso fa dell'eccesso una una fonte di ispirazione che sia nello stile nello stile curato ricercato ma allo stesso tempo fuori di testa pensiamo a spera e basta o alla dark polo gang comunque ci sono delle scelte estetiche di un certo livello ma allo stesso tempo assurde che funzionano è spettacolo anche in quel senso e dall'altra parte un modo di comunicare non per tutti naturalmente ma nella maggior parte sì un modo di comunicare con il non sense e anche con l'estremizzazione effettivamente del lusso dell'agio che anche di grottesco l'ironia ad esempio utilizzata da mischetta che io adoro mischetta lei ironizza molto sugli eccessi sul lusso si crea un personaggio su da quel punto di vista io credo che young signorino il suo personaggio sia lo zombie che viene da quel mondo no quindi ha passato uno step oltre è diventato quasi la figura malefica di quello che c'è in quel mondo mainstream nel mondo mainstream della trap è colorato è eccessivo young signorino è la sua è il suo inverso è il suo negativo grottesco grottesco e quindi incomprensibile anche brutto anche scomodo incomprensibile ma con un fondo di interesse secondo me è per quello che la gente continua a insultarlo a scrivere che fa schifo perché interessa la gente lo va a vedere esattamente come si va a vedere tutto ciò che è trash ma in un trash potente qua c'è un trash intenzionale che però attenzione a degli elementi non trash ad esempio l'estetica l'estetica del video o i suoni la produzione dei suoni delle sue canzoni quindi c'è un bel conflitto che secondo me dovrebbe far pensare io trovo il fenomeno di young signorino abbastanza da non prendere sotto gamba perché ci fa pensare ci fa pensare a quanto l'eccesso sia diventato in un certo senso banale cioè per diventare effettivamente una materia di discussione bisogna diventare lo zombie dell'eccesso in un certo senso no e mettendo comunque in chiaro che ripeto più rapper che si vestono come a larry cohen che rappere che si vestono gucci sarebbe un mondo migliore secondo me da per i miei gusti eccessivi diciamo però dall'altro lato sarebbe interessante vedere dove young signorino andrà a parare se dimostrerà se continuerà con questo assenza di talento esagerata ma allo stesso tempo una carica espressiva in questa non estetica in questa non estetica attorniata da estetica feroce come gli abiti i video è bello vedere dove andrà a parare sarà sempre la stessa roba perché se sarà punto di domanda perché se sarà la stessa roba se invece riuscirà ad andare sempre oltre e anche reinventarsi potrebbe diventare un artista più interessante di quel che sembra ragazzi state attenti e un'altra cosa che sarebbe bello vedere è come gestirai live perché live sarà lui che farà solo o creerà uno spettacolo perché lì si capirà effettivamente il livello della performance poi anche le interviste che fa lui è un character cioè lui racconta una vita di eccessi di disturbi quasi surreale noi non sappiamo se li ha effettivamente vissuti o no ma non è neanche importante saperlo secondo me ci sta trascinando in un mondo grottesco in un mondo del brutto che però secondo me dei punti di interesse li ha quindi vi vorrei far riflettere su questo non saltate a conclusione affrettate chiedetevi piuttosto perché certe cose fanno parlare questo è il mio pensiero fatemi sapere cosa ne pensate io vi mando un bacione vi aspetto al prossimo video ciao ciao ciao